Il preambolo I tempi in cui lui vive sono tempi in cui in Europa e quindi tutto il mondo cristiano pensa che la vita ormai sia come dire un intertempo in cui si è destinati a soffrire, punto un luogo dove bisogna star male, punto perché ormai c'è stato già Gesù, lo abbiamo crocifisso quindi la colpa ricade su di noi in qualche modo e quindi Sant'Agostino dice guardate non vi dannate più di tanto perché tanto va a finire male fino a quando non ci sarà l'apocalisse, la fine dei tempi, poi quelli che si comportano bene e questa è la dinamica con cui non solo la Chiesa ma tutto il mondo civile vive quindi poi questa cosa ha una doppia reazione da una parte vi di gente che si fustiga tutti i giorni e altri tipo i papi che fanno cinque figli con una, capito? dice vabbè me la goto tanto che se ne frega, va male e invece lui fa un'operazione eccezionale e la fa portandola a termine in un luogo se vogliamo piuttosto isolato come la Sila in Calabria dopo aver frequentato dei luoghi particolari come Roma, Verona, la Chiesa, certi papi essere diventato abate, aver frequentato degli ambienti cistracensi cioè è una persona intelligente lui, non è che non si coltivi però quello che fa lui per l'umanità è quello che dovremmo fare tutti quanti per chi ci sta vicino lui utilizza le dinamiche del sapere dell'ottava non per se stesso per lo meno le vuole applicare alla storia dell'umanità cioè lui vede la sua storia e quella che sta vivendo l'umanità come una cosa pessima non va bene quindi lui crea vuole attraverso poi l'interpretazione dei testi sacri ma secondo me lo fa più che altro per dare autorità a un meccanismo che sta al monte dei testi sacri e crea una situazione temporale che prima della sua venuta non esisteva nel vivere quotidiano del mondo cristiano cioè il mondo cristiano non pensava che ci potesse essere un periodo di pace di tranquillità, di benessere in cui tutti gli esseri fossero spiritualmente di un certo livello e questo livello che lui in qualche modo incardina lo definisce un mondo in cui per esempio persino gli uomini e le donne non hanno più bisogno di sposarsi e addirittura non c'è più bisogno di una chiesa materiale ma spirituale qui quello che vengono a sapere a Roma cioè no? è già lì e per testimoniare ciò fanno una serie di studi che durano un po' di decenni però io ho visto che dietro quegli studi c'è in anteprima una conoscenza di queste leggi che applicate ai testi sacri gli danno una nuova linfa che va poi in qualche modo a incardinarsi, a incernierarsi verso un terzo periodo che lui chiama dello Spirito Santo in cui effettivamente qui in questa realtà ci sarà lo Spirito Santo ci sarà la Gerusalemme Celeste e poi si andrà di là cioè lui non è che dice dobbiamo per forza statuti male, morire no, noi qua avremo questo periodo per cui poi lui diventerà diciamo il portatore sano dei tutti i rilascimenti per cui tutti coloro che si occuperanno di creare nuove società che avranno perlomeno l'ideologia di creare una nuova si rifaranno a lui per cui scusa quello che dice Sant'Agostino lui lo ha contestato lo ha smentito non è l'unico perché c'è tutto un lavorio di altri di altri, chiamiamoli così, scrittori ma non sono scrittori, sono appartenenti al mondo catola patristica di quel momento là dei grandi padri e quello che ne scaturisce è una continua revisione di un momento che in qualche modo dura quindi 45 giorni nella storia biblica non è una roba collegata a un passaggio del profeta Elia se non sbaglio no, Daniele ma lui, cioè man a mano arrivando a lui lui dice no, non è esattamente così è un periodo che non è manco quantificabile va bene potrebbe durare chissà quanto dopo questo settimo periodo ce ne sarà un ottavo capito? ottavo e sarà il momento in cui andremo tutti nella Gerusalemme celeste il campo però intanto quello viene qua quindi lui dice che quella cosa verrà qua ci sarà qua è per quello che diventa così importante per tutto il mondo iniziale perché lui crea un archetipo del divenire positivo che sarà appunto di riferimento per tutti i grandi perché loro sanno che il volere è quella cosa schematizzata in quel modo simbolizzata in quel modo perché lui la disegna oltre che scrivere ci sono dei simboli suoi che sono bellissimi bellissimi c'è l'albero della concordanza e poi va spiegato ma non solo quello in cui c'è questo percorso che è fantastico allora lui vuole lui vuole per amore quella cosa nella storia dell'umanità perché quella cosa nella storia dell'umanità sfrutta delle dinamiche se vogliamo addirittura tecniche con cui il divino partecipa in questa realtà se tu lo vuoi per cui per volere questa cosa lui suddivide la storia dell'umanità in tre momenti quello del papà quello del figlio e quello dello spirito santo che è la somma di tutte e due che è un po' come dire Orus Iside Osiride Iside e Orus è la stessa cosa è la nostra trinità quelle sono le tre energie principali che si esprimono attraverso il settenario fuori e dentro di noi il 3 ti dà il 7 ma il 7 nasce attraverso l'8 e tutto si combina con il 9 del 99 allora cosa succede che fondamentalmente lui vuole e imposte la sua vita creando un ordine quello forense che dentro la storia dell'umanità ci sia un momento di grandissimo ottimismo in cui saremo tutti così crea l'archetipo capisci che responsabilità si prende ed è una dimensione del gestire queste leggi iniziatiche che va oltre il gestirle personalmente quindi l'etica del gestire è rivolta a tutti poi a lui per primo perché poi crea delle situazioni così di vita i luoghi di culto suoi saranno suddivisi in sette punti ben precisi dove ci sono sette tipi di società dove quella centrale è quella che si occupa di Dio ma che partecipano con il commerciante con l'istruttore con i militari cioè tutti quanti danno quello che sanno dare e vanno a finire lì poi al centro dove c'è lo spirito santo poi bisogna spiegare come lo spirito santo però questo schema lui lo elabora lo definisce a livello bibliografico ma lo schematizza a livello simbolico quindi questi questi simboli che lui disegna perché è un grande disegnatore poi arrivano fino a noi noi ce li abbiamo quindi prendere in mano quelle cose osservarle e guardarle con attenzione ti fa capire che tipo di struttura numerica utilizza per creare un presupposto energetico che indipendentemente dal tempo abbia come risultanza finare l'ottimismo del divenire e quindi la pace in assoluto capito? quello giochino da fiore qua non là qua e dopo che sei stato bene qua vai là ma sei stato già bene qua quindi lui dice guarda che se vai là e non sei stato bene non vai bene là non ti trovi tanto bene invece se stai bene qua e sei cosciente di questa bellissima realtà poi ne puoi ottenere un'altra ancora più grande ma devi essere cosciente di questo e c'è questa possibilità ed è un modo enorme eccezionale di rivolgersi all'umanità motivo per cui immediatamente diciamo 30 anni ma poi durante un concilio 50 anni dopo la sua morte bloccano un suo testo perché lo tacciano di eresia quel testo anche se definiscono lui un cattolico convinto ma facendo questo creano una specie di anatema su quello che lui scrive per cui l'ufficialità non ci andrà mai più per quanto riguarda il mondo cattolico ma il mondo iniziatico sa cosa ha fatto sa l'eccezionalità di quello che ha fatto sia dentro il mondo cattolico che fuori quindi sarà sempre preso ad esempio perché ha fatto un'operazione per l'umanità poi c'è la dinamica con cui fa l'operazione cioè il simbolo da spiegare e quello richiede un po' più di tempo però lì dentro ci sono due percorsi in cui il 9 accompagnato al 7 si ripete due volte 99 per cui vedi il 63 di 5 ripetuto due volte che va a interpretare queste tre energie per proporne una terza che deve ancora arrivare ma la prima la seconda e la terza coesistono temporalmente quindi vuol dire che lo spirito santo e quindi diciamo il figlio di queste due entità energetiche è presente quando c'è il papà il papà è presente quando c'è il figlio e anche lo spirito santo e viceversa quindi fondamentalmente lui annulla lo spazio e il tempo e lo propone come modalità dimensionale con cui creare la felicità il benessere e la pace questa è la diciamo la sua missione e la colpisce in piena cioè la raggiunge in piena per quello che mi è piaciuto però è venuto fuori dopo il De Garda il De Garda usa quelle tecniche su di lei e diventa una grandissima cioè lei per fede speranza e carità crea un mondo in cui lei parla con Dio ma è un mondo vero lui parla lei eleva talmente tanto le sue qualità morali da creare una realtà in cui lei parla con Dio è verità cioè nel suo mondo c'è Dio poi se tu leggi cosa si dice con Dio dici solo con te parla così a me non mi dice mai niente cioè fa un discorso che dura 30 anni però è bellissimo perché lei suora di clausura prima e benedettina dopo pur dentro le mura che poi avrà modo di insomma superarle spesso perché diventerà una relatrice impressionante crea un suo mondo capito? ma lo crea per lei che poi ricade sugli altri invece la visione di Gioacchiero da Fiore è infinitamente più grande perché crea un mondo per l'umanità lui dice cristiana mettiamola così però in quel momento lui dice quando avrà questo anche per esempio il mondo ebraico verrà ripreso che loro ce l'avevano con gli ebrei che secondo loro avevano ucciso è abbastanza riduttivo per quanto riguarda queste due fonti religiose ma siccome lo schema è estrapolabile da quelle due fonti religiose è esportabile per tutte le dinamiche religiose e temporali e in divenire questo è l'ottavo quindi se si vuole parlare di un'entità divina presa così uno la può interpretare se la si vuole vedere solo dentro il mondo cattolico non è interpretabile perché non gli appartiene quindi questo bisogna fare cioè il futuro è fatto di una spiritualità che appartiene a noi tutti uno per uno individuale che comunque mantiene una matrice che è quella che riguarda la natura e se tu accetti questo la natura vista come vestito del divino come corpo del divino le stagioni come atteggiamento del divino i colori della stagione come etica del divino quindi il verde è una cosa che si congiunge all'amore e all'immortalità perché quello torna col verde cioè chi torna qua cioè se ti fanno tutte queste fregature io non ci tornerei ti mangiano ti inquinano ti portano no quello torna quindi quello è un modo e quello diventa la morte quindi è uno dei riferimenti virtuali più importanti non virtuali virtuosi più importanti per cui quelle sette virtù che sono al cardine creare un periodo temporale indefinito e definibile poi in cui fondamentalmente noi potremmo raggiungere dei livelli sì spirituali quindi di pace mai raggiunti questo è quello che fa Giochino da Fiore questa roba qua è estremamente pericolosa anche per il mondo cristiano perché non è gestibile con le dinamiche di allora tanto meno con quelle di adesso quindi lui riesce a a creare l'archetipo del momento del rinascimento del valore dell'aspetto spirituale umano e inserire questa come come proposta come divenire nella storia dell'umanità questo è quindi fa l'operazione delle operazioni perché quella dinamica è sempre valida ed è valida ovunque cioè non è solamente una tecnica valida brutto termine però non è una tecnica valida solo per il mondo cristiano ma per tutti i mondi spirituali ma soprattutto per tutta l'umanità e questo è il messaggio suo per cui è un messaggio talmente grande che per la prima volta quelle che sono le tecniche iniziatiche di tipo così conoscitivo riguardanti l'ottava vengono allargate a dismisura e siccome adesso c'è bisogno di ottimismo penso che dare uno sguardo al liber figurarum dove ci sono tutte le sue immagini ed esaminare per esempio gli alberi della genealogia ascendenti perché partono da Adamo e vanno fino alla seconda venuta di Cristo ha senso può sembrare una cosa lontana da noi ma invece quello è uno schema attuabile di un probabile futuro attuabile ma sicuramente basato sull'ottimismo l'opportunità che l'umanità può profilarsi può darsi per vivere spiritualmente in modo diverso sicuramente in pace in pace sicuramente lui dice che la pace è possibile è possibile tecnicamente cioè per lui è una cosa allora lui come dire non è che ne parli solamente da seguito a questa sua a questo suo convincimento attraverso un ordine che quello florense e va bene però poi bisogna vedere gli insediamenti degli ordini florenzi come sono fatti perché sono suddivisi in sette zone ben precise ognuna di quelle zone è consegnata a uno dei talenti ben precisi che la società deve avere per cui c'è chi si occupa c'è l'artigiano c'è il commerciante c'è il professore c'è il frate c'è tutta questa gente utilizza i propri talenti finalizzandoli ad uno scopo che è quello di condividere quello che noi sappiamo fare per ognuno per raggiungere Dio a modo suo e quindi crea una società di questo tipo cioè non rimane appesa che è un po' diciamo la gelusalemme celeste in terra questo fa lui passa dal dire a fare poi c'è l'aspetto diciamo conoscitivo riposto dentro i suoi simboli che è potente chi si occupa di forme energetiche quella cosa la dovrebbe esaminare con molta attenzione la esamineremo in futuro eh magari se ti va si mi va chiudiamo qui per adesso questa bellissima conoscenza personale e anche di esperienza che mi hai raccontato che io divulgherò per quello che posso a quelli assettati di queste cose Michele ti ringrazio molto ti ringrazio io ti ringrazio molto è stato un piacere conoscerti visitare la tua bellissima città rendersi conto di cosa vuol dire un disastro come il terremoto che c'è stato e vedere comunque come uno come te ama la sua città e vorrebbe vederla richiorire in nascere come il verde del prato e ci vediamo non è finito qui ci vediamo il 9 all'8 a Bologna allora si vabbè allora ci divertiamo siamo già lì siamo già lì grazie di nuovo grazie a voi grazie di tutto nel regalo saluta Carpeoro sarà fatto Franceschetti no no più avanti lo sai è antipatico poi è buddista senza capelli è brutto ok ciao ciao